Tana delle Tigri Quanto discutibile di Puglia che comunque ha trovato il 9 direttamente al flop Questo è Puglia, andiamo invece a sentire, a vedere anche Marco Apicella Che ha giocato sicuramente le zap più bello, il poker migliore Purtroppo non hai visto carte oppure l'imprevedibilità o meglio ancora il gioco un po' casuale del tuo... Ho provato a vincere la partita, soltanto che quando lui si è reso conto che non c'era nulla da fare Ha cominciato a fare sempre all in tutte le mani e mi ha messo in difficoltà Era l'unica arma con cui poteva difendersi Complici a lui perché probabilmente ha trovato l'unica strategia che poteva adottare per vincere la partita Guarda, un signore veramente a resistere al tavolo con Puglia che comunque non è stato brillante dal punto di vista se non altro umano E ti fa onore anche la dichiarazione che hai appena fatto su di lui Comunque il vincitore morale è Marco Apicella quindi ci rivediamo ai prossimi tornei Grazie, un saluto a tutti Ciao Marco Ciao